Nome? Manuele. Riccardo. Età? 26. 25. Soprannome? Paso, Kaiser. Valo. Dove sei nato? Berlino. San Sepolcro. Dove vivi? A Gambettola. San Sepolcro. Squadra in cui giochi? San Pierana. Ruolo in cui giochi? Attaccante. Il calcio, sport, gioco o passione? Passione. Passione. Perché squadra tiffi? Milan. Juve. Il tuo idolo nel mondo del pallone? CR7. Osirle. Il tuo ricordo più bello? Quando ho fatto la primavera all'Alerta Berlino. A Empoli quando giocava in Empoli. Il tuo ricordo più brutto? La retrocessione in promozione con la Samoresco. La città di Castello quando ho perso il campionato. Il vostro compagno di squadra, più bello? 40. 40, conferma. Più forte? Io evado. Pasolini. Più ignorante? Io. 21 gol, Vallottelli, gioca bene, gioca male, Vallottelli nazionale, capo cannoniere dell'eccellenza. Pasolini, è dura? Hai ragione, comunque ha fatto un gran anno e gli faccio i complimenti. Un anno, gli ha fatti tutti gli anni lui, un anno fammene fare anche a me. Un pregio e un difetto dell'altro? Un pregio che ride sempre, scherza sempre, un difetto che si scalda subito, è molto istintivo. Un pregio è molto buono, un difetto è molto testardo. Pasolini, bravo ragazzo, fidanzato, poche serate, valori, disastro, uomo della notte, sempre in mezzo alle donne, insomma vita da bombe. Gli opposti si attraggono? Eh sì. Sì, molto. Sì, molto, molto. Confermo. Vi accomuna un mister, Freschi Federico, a chi lo paragonereste? Come mister, come mentalità, a Conte. A Guardiola. Avete fatto un buon campionato, a novembre eravate secondi, forse il vostro momento è migliore. Un bilancio? Secondo me potevamo fare molto meglio, alla fine siamo finiti in metà classifica, potevamo fare molto, molto meglio. Abbiamo fatto un gran giorno d'andata e il giorno di torno ci siamo un po' persi, però tutto sommato abbiamo fatto un buon campionato. Credi nelle cabale? Il giusto, ce l'ho qualcuna. No. Quindi non ne avete nessuna in particolare? No, io sì. Io no. Fuori dal rettangolo verde cosa ti piace fare? Ma le cose che fanno tutti i ragazzi della nostra età, alla fine, uscire con gli amici. Divertirsi e uscire con gli amici. Come esulti quando fai golf? Ne ho mille, quindi non lo so. La tua preferita? Quando si scivola con le ginocchia, sul prato bagnato, bellissimo. Quando tolgo la maglia. Cosa guardi in una donna? Le sue forme, poi tutto. Prima cosa è il viso, ovviamente. Il viso. Vuoi dire la verità? No, è il viso, veramente. Pasolini puntava a venti gol. Valori dichiara. Spero di farne tanti insieme a lui, ci troviamo bene, perché ce la passiamo, giochiamo l'uno per l'altro. È amore? È amore, sì. Diciamo che mi trovo molto bene con lui. Il prossimo anno? Io spero di restare a San Piero, vedremo. Io ancora devo finire questo, non so per il prossimo anno come sarà. Devo finire quest'anno. Mezz'ora fa Valori mi scriveva, domande facili, che abbiamo già fatto otto aperitivi. A quanti vogliamo arrivare entro domani? Ma io dico una trentina. No, trenta, non bene, passa. Hai qualcosa da dire al tuo compagno di merenda, all'allenatore, alla squadra che non avete mai detto? Un sassolino che vi volete togliere dalla scarpa? Valori, se prossimo anno resti sentiero, i rigori li caccio io. No, i rigori non li caccio a lui. Comunque, no, ho sempre detto tutto quello che pensavo. Salutate tutti quelli che vi guarderanno. Ciao. Ciao, buona sera da tutti.